buongiorno siccome qualche considerazione la faremo dopo aver visto la prima carta perché tanto qualcuna vi tocca lo sapete vediamo subito l'immagine del satellite l'ultima senza neanche fare i famosi passi indietro questa è la situazione di questa mattina abbiamo al di l'arco alpino tutta questa zona questa strisciata di nuvole che è una vera e propria perturbazione che nelle ultime 24 ore ha diciamo trovato la sua strada fino a questo punto dall'atlantico è entrata sull'europa e a questa direzione da ovest verso est la parte più intensa si trova sulle sulle repubbliche baltiche sembra che la che la sua strada appunto l'abbia trovata e che sia questa vale a dire quella di sfiorare le zone alpine e poi andarsene verso est a questo proposito sapete che io ogni tanto vi faccio vedere anche il il backstage come dicono quelli quelli bravi cosa succede dietro le quinte allora questa prima carta calcolate che fra l'una e l'altra ci sono circa 24 ore è prevista per le 12 di domani vale a dire con questa perturbazione ormai arriva guardate quella perturbazione che abbiamo visto è rappresentata da questa linea nera che vedete arriva al livello delle zone alpine si appoggia scorre le tocca le sfiora la previsione era che ci fossero temporali anche sulle zone di nord est qualcuno cioè qualcuno anche oltre le zone alpine però più o meno manteneva questa posizione che sembra quella che ha adesso in realtà 24 ore dopo la stessa carta prevista sempre per martedì alle 12 questo per per farvi capire anche che questi modelli vengono aggiornati giorno dopo giorno e a volte cambiano un po strada ecco questa perturbazione ha ben passato l'arco alpino ed è prevista sulle regioni settentrionali quindi entra è la parte meridionale ma entra sulle nostre regioni non si appoggia sulle zone alpine guardate l'ultima previsione sempre per domani a mezzogiorno in cui la parte orientale della diciamo orientale settentrionale della perturbazione c'è ma è entrata non soltanto sulle zone del nord ma addirittura a prendere il centro e il sud con queste linee celestiche vedete che rappresentano rappresentano comunque una zona di forte instabilità quindi fra la prima e l'altra sono passate 48 ore ma il quadro è totalmente diverso e anche la nostra previsione di questa mattina ve lo dico per correttezza è diversa da quella fatta ieri che vedeva questo leggero peggioramento a come stanno le cose la previsione per oggi intanto ma la giornata peggiore sarà forse fra questa sera e domani prevede qualche temporale sulle zone alpine orientali delle piogge quanto meno inizialmente sulle alpi invece occidentali ma fenomeni che riescono a entrare anche in pianura inizialmente non molto intensi ma che tenderanno con la concomitanza con le ore del pomeriggio perché anche lì le due cose si sommano a dare anche qualche fenomeno temporalesco in pianura di preferenza sulle zone di nord est dove però il tutto vedrete fra un attimo passerà abbastanza rapidamente però il quadro è diverso non resta al di là delle alpi entra al nord qualche breve diciamo pioggia ci può essere anche sull'appennino centro settentrionale al sud qualche nuvola e oltre non c'è velocemente i venti perché mi interessa farvi vedere i due giorni prossimi sono moderati vedete che hanno direzioni un po come dire ondiva che caso di dirlo c'è ancora un po di maestrale sul basso tirreno c'è questo sud ovest sul sul mar ligure o ovest insomma non c'è una direzione particolarmente dominante localmente i mari sono mossi ma oltre questo non si va nei prossimi giorni invece ci sarà anche più vento sicuramente lo vedremo allora vediamo la giornata di domani questa o questo nucleo di maltempo scende e prende domani a metà giornata le regioni centrali mentre già migliora su quelle di nord est che al mattino ancora avranno forse qualche qualche temporale ma lì il tempo migliora abbastanza rapidamente e poi comincia a peggiorare anche fra centro e sud la linea gialla vi separa la zona del nucleo di peggioramento che avanza con qualche pioggia che invece al sud si presenta soltanto nel pomeriggio l'attività pomeridiana che si riattiva per l'avvicinarsi di questo tipo di aria diversa mercoledì migliorato ormai totalmente al nord in buona parte anche al centro resta questa zona di maltempo che prende le isole maggiori gran parte del sud non tutto la puglia meridionale magari no ma insomma i fenomeni ci sono tenete conto che con non vi faccio vedere le carte perché ho fatto tardi ma insomma mi sembrava giusto raccontarvi anche come si svolgono le cose le temperature in diminuzione nella fase di peggioramento in maniera anche abbastanza marcata ma tenete conto che dura 24 ore poi si riprendono un poco quindi ancora freddo così non ne farà sicuramente noi ci vediamo domani alle 7 e 20